Pesaro celebra l'unità d'Italia e l'orgoglio delle forze almate e per l'occasione apre le porte della caserma del 28esimo reggimento Pavia, reparto eccellente delle forze speciali dell'esercito italiano, specializzato nella guerra psicologica e nelle comunicazioni operative. Ieri mattina alle nove in punto i portoni della caserma del monte si sono aperti alle autorità, ai tanti cittadini e agli studenti che hanno voluto visitare le strutture del Pavia tirate a lucido per l'occasione, per condividere sentimenti e valori comuni che è fondamentale rendere sempre più popolari. È una festa anche a chiusura di tutte le iniziative che sono state fatte per il centenario della grande guerra ed è la dimostrazione che ricordare può far bene, ha visto con grandissimo piacere la gioia e la partecipazione dei ragazzi, quindi è veramente una festa che ha coinvolto anche tanta popolazione qua cittadina. La ricorrenza che celebra la fine vittoriosa della prima guerra mondiale ha commemorato la firma dell'armistizio siglato con l'impero austro-ungarico a Villa Giusti il 3 novembre del 1918. Dopo l'alza bandiera, di fronte a un reparto d'onore interforze in armi composto da personale dell'esercito, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della capitaneria di porto, della polizia di stato e della polizia penitenziaria, il saluto delle autorità, prefetto Carla Cincarilli e sindaco di Pesaro Matteo Ricci in testa, con il colonnello Massimo Marceddu a fare da padrone di casa nella prima cerimonia ufficiale dopo il suo insediamento a Pesaro lo scorso 22 settembre. Tantissimi i sindaci e gli amministratori presenti per sottolineare l'affetto nei confronti degli uomini e delle donne che ogni giorno lavorano per garantire al paese pace e sicurezza. Nelle parole delle autorità il pensiero è andato a tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la propria vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere, valori immutati nel tempo, per i militari di allora e per quelli di oggi. Dopo la deposizione di una corona in memoria dei caduti è stato il momento delle onoreficienze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana ai cittadini della provincia di Pesaro. I nuovi cavalieri della Repubblica sono l'avvocato pesarese Floro Bisello di Pesaro, responsabile dell'Adus Bef Marche, il generale dei carabinieri Marco Filoni, ex comandante provinciale dell'arma, l'ex onorevole Pietro Gasperoni, l'ex sindaco di Fermignano Giorgio Cancellieri, il dottor Davide Talevi di Marotta e due fanesi, ovvero il dirigente della Polizia di Stato Nicola Moschella e l'imprenditore Arido Severi. Comandatore della Repubblica, invece, è stato nominato il colonnello della finanzia Ippazio Bleve. La giornata di oggi ci ricorda quelle che sono le origini della nostra nazione. Ricordiamo anche il centenario della grande guerra, è stato uno sforzo di un popolo che con i sacrifici non solo delle forze armate ma di tutti i cittadini sono riusciti a costruire quella che è l'Italia di oggi.